150.000 euro per contribuire ai lavori di recupero, riqualificazione ed adeguamento dell'ex mercato ittico di via Cristoforo Colombo a Barletta, individuato come sede della Capitaneria di Porto della città della disfida. E' quanto stanziato dalla provincia di Barletta Andrea Trani in occasione della manovra di assestamento generale al bilancio 2012, approvato lo scorso 30 novembre nell'Aula del Consiglio Provinciale. In seguito al tanto atteso riconoscimento di Capitaneria di Porto all'ufficio circondaliare marittimo di Barletta, avvenuto nei mesi scorsi, l'amministrazione comunale aveva individuato, proprio nell'ex mercato ittico, la sede più idonea per ospitare gli uffici della neonata Capitaneria. Con una delibera datata 28 giugno 2012, la giunta barlettana aveva approvato un progetto preliminare per i lavori di recupero, riqualificazione ed adeguamento dell'intera struttura, per un importo complessivo di 480.000 euro, importo che adesso potrà essere incrementato dal contributo dell'ente provinciale. L'edificio, di proprietà comunale, è in gran parte inutilizzato e necessita di seri interventi di ristrutturazione, recupero ed adeguamento di natura edile e impiantistica. I lavori previsti nel progetto preliminare, approvato dall'aggiunta comunale, consistono nella realizzazione di nuovi bagni, l'apertura vani, porta e finestra, intonaci, pavimenti e nell'installazione di nuovi infissi interni ed esterni, oltre all'adeguamento alle norme di sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici.